Salve a tutti e bentornati a Dark Mouse Allora, un attimo che mi sono incastrato con i cavi Allora Confronta Zarristar, va bene Ancora rimasto male della volta scorsa Ah In che... Com... Perché c'è un'altra strada? No, non avevamo già visto qua Cioè Mi sono perso un passaggio Ah Ok La sembra chiuso Andiamo a vedere se c'è un oggetto Eh, non è chiuso Però c'è un oggetto Ed è chiuso Ok Ehm Vediamo un attimo Eh, questo lato Non c'è assolutamente nulla Rallento Rallento perché non so se magari da qualche parte c'è un agguato Sembra tutto abbastanza tranquillo Ah, allora Quello ci riporta la porta su Vediamo Eh, ma non ci bastano lo stesso questi Marrow Ok Ok Ah Ah Scorciatoia fatta Ok Ok Credo Oh 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 Non c'è un oggetto Non c'è un oggetto No Ok Sembra cattivo Ok Sembra molto cattivo No, no, no Stammi lontano Che sta facendo? No Ma che davvero? Oh cavolo Ah Ha ha Ah, cavolo Dannata stamina Oh, non, 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 non Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ok 57 morti Oh, mi manca un'arma Ok Beh, certo, sarei curioso di fare New Game Plus per vedere che cosa succede se questa volta salvo il padre di Anna Vediamo un po' Chissà qual è l'ultima arma Eh? Come I miei corpi morti Oh, cavolo Cioè, praticamente Dei 57 morti che ho fatto Significa che ci sono 57 nuovi nemici Ciò non è bello Ciò non è affatto bello Comunque sì Non so neanche Se lo ricomincio immediatamente O magari Aspetto un pochino Era giusto per togliermi Un po' La curiosità Non me la ricordo neanche questa zona Cioè, sì Me la ricordo Però non mi ricordo Ma c'erano Le avevamo trovati Così all'inizio Questi Vedete che non mi ricordo No Certo Otto Mero Ci vorrà un bel po' Ok Ok Oh, non, non Ok Ok Uff Ma andai Mancato Allora Devo ammettere che è un Un gioco Molto molto Carino Simpatico Leggero Non facile Assolutamente Non facile E Secondo me Vale la pena Di Di giocarlo Io volevo prendere Questi oggetti Che però Oramai Sono persi Comunque Mi dispiace Per la puntata corta Mi aspettavo fosse Un pochino più lunga La parte finale Ma E' andata così Sicuramente Lo rigiocherò Prima o poi Non penso Di farlo a breve Perché ci sono altri giochi A cui sono interessato Comunque Grazie a tutti E ci vediamo la prossima volta Con una nuova serie Ciao 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 Bye Grazie a tutti.